Abbiamo un'occasione storica. Roberto Chiuto, entusiasta, sottolinea così la possibilità che 16 ospedali di comunità siano finanziati con il PNRR. Si delinea quindi davvero un nuovo assetto per la sanità calabrese con la presentazione del piano all'Agenas, l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali. Il Presidente della Regione parla di un primo importante passo compiuto per non perdere alcuna risorsa del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza destinata alla sanità. Il piano è stato redatto e presentato in soli quattro giorni e questa è un'altra novità promettente per il futuro della nostra Regione. Un impegno corale che ha coinvolto le istituzioni e la burocrazia regionale, ma anche ASPA, aziende ospedaliere e molti sindaci. Tutti concordi in questa nuova strategia che ridà a molti non so come chiusi un nuovo ruolo. In tutto saranno 16 i cosiddetti ospedali di comunità, affiancati da 56 case della comunità e 18 centrali operative territoriali. Ma il numero è ancora solo provvisorio e potrebbero esserci altri nuovi ingressi nella già lunga lista che comprende località di tutta la Regione. Nel Cosentino, per esempio, premiata la caparbietà dei cittadini di Cariati, che da tempo chiedono dignità per il loro ospedale, che arriverà ad avere anche un pronto soccorso. Ma pure i popolosi centri di Scalea e Cassanoionio avranno il loro presidio sanitario potenziato. Il piano prevede anche interventi importanti in centri montani come Soveria Mannelli o Soriano, senza dimenticare la Locride, con Gerace e Bova Marina. È sicuramente un programma ambizioso, quello stilato dalla struttura regionale. Un programma che prevede molta presenza sul territorio, con strutture con diverse potenzialità, atte a snellire anche il lavoro dei grandi hub. Un programma che richiederà molti investimenti per diverse centinaia di milioni, che forse solo adesso sarà possibile mettere in campo. Per questo l'occasione del PNRR va colta al volo.